Ciao ragazzi, eccoci qua su World of Gun Disassembly non ricordo più niente dobbiamo fare il Winchester del 1873 ve l'avevo detto un'altra volta che lo facevamo mi plugo l'orecchio, devo chiammi l'orecchio ma edizione ho detto un'altra volta che lo facevamo quindi facciamolo poi non so, vediamo un po' come vanno queste cose questi video e poi non so se continuare o meno io ci gioco lo stesso tanto questa è più difficile come arma da smontare, non è semplicissima come quella dell'altra volta infatti non mi ricordo più niente sono giocato 25 anni fa e a chi si ricorda più come si smonta sta coso scusi, me lo fai a smontare? no eh perché iniziare a smontare un'arma? se puoi guardarla prima mi scusi, posso togliere le vitrine almeno niente, non posso togliere niente ok, quest'arma non si smonta perché non si smonta? ci sarà una mi sono perso nel mondo ok, qua solo ok la telecamera da gestire è veramente fatta male potevano farla un attimo meglio allora, siamo qui che cazzo devo togliere? non mi ricordo più niente peraltro qui non mi... con questa telecamera mi fa diventare matto mi fa diventare cos'è che devo togliere? ci sarà qualcosa? oh là là eccola eccola abbiamo trovato una parte che non possiamo più fare niente perfetto la musica poi peraltro è bella bellissima devo dire la musica fa schifo però lasciamo stare togliamo sto pezzettino qui togliamo il legnettino togliamo la parte di sopra di sotto togliamo qualcosa togliamo togliamo oh là eccolo eccolo che l'ho beccato l'ho beccato quindi togliamo questo poi togliamo anche non lo svitiamo niente più togliamo questo qualcos'altro dobbiamo svitarla secondo me allora che c'è da svitare? non per niente c'è da svitare qua non si svita più niente togliamo questo togliamo questo ma perché non viene via? togliamo la vitina cioè fammela togliere prima non è che ti cambia il mondo ok qua ha svitato lui questo cosino qua togliamolo anche noi no perfetto dico facciamo una cosa poi le faccio un'altra togliamo questo cosino qua è un cosino minuscolo che peraltro ah mi ricordo questo qui non si toglieva mai ok lo devo togliere con il doppio clic lo devo togliere perché non si smonta cosa c'è più da togliere qua? ok togliamo questo con il doppio clic potete togliere già tutti i pezzi doppio clic vediamo se vi fa togliere qualcos'altro ok togliamo qui non mi ricordo più quest'arma ci ho giocato troppo tempo fa quest'arma ho fatto le istruzioni adesso non mi ricordo più come si disassembla era difficile mi ricordo che era difficile perché erano molti pezzi 75 neanche più di tanto però era difficile questa vediamo un po' che mi fa togliere toglimi questo ok fammi smontare le canne no? ancora è troppo presto per le canne facciamoci le canne tutti quanti insieme poi togliamo questo qui da questa parte anche questo via ok ok forse ho recuperato un po' non ho recuperato niente quando dico recuperato perdo sempre ok questo non me lo fa ancora togliere mi manca qualcos'altro mi manca eh questo da togliere ma non me lo fa togliere il tizio beh no no eh no 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 andiamo di fretta noi tanto pure che non facciamo l'obiettivo non mi freve niente a me però vorrei smontare sto cazzo di cosa fammelo guardare da sotto che c'ha che non mi fa andare dovrebbe venire fuori dovrebbe venire ah eccole no non me lo fa prendere tanto vabbè lasciamolo stare lì questo me lo fa togliere ma che non mi fa togliere niente oggi ah eccolo eccola la vitina no non mi fa togliere sta vitina ma quel cazzo devo fare questo merda con la con la con la visuale faccio sempre un casino questo gioco allora qua non me lo fa togliere per niente questo è già tolto e allora qual è che devo togliere scusa l'ho cliccato in tutti l'ho cliccato sarà un pezzettino inutile sarà sicuramente sarà un pezzettino inutile che adesso mi fa incazzare allora qua qua niente ah facciamo help aiuto si si aggiungi il tempo chi se ne frega ma va a far culo che cazzo di aiuto mi hai dato ma chi aiuto è questo mi dà l'aiuto dammelo sulla parte ufficiale non sulle minchiate dammene un altro bastardo ah mo me lo fa togliere ma guarda che il gioco è veramente stupido sono parti scollegate fammeli togliere questa parte qui è il gioco sulle parti scollegate non è che funziona molto bene dovete seguire quella procedura infatti per questo questo gioco non è il gioco dell'anno per smontare le armi perché dovete seguire quella procedura se vi scordate un pezzettino diventa veramente tutto più difficile perché è come se lui rilevasse un'incongruenza però non è proprio cioè è un'altra parte non serve a niente averla smontata prima o dopo non ti cambia la vita togli tutto qua ancora ce ne mancano 33 di parti allora togli anche questo togliamo il pilletto boh abbiamo finito qua andiamo qui togliamo questo questo togliamolo sfiliamolo da dietro ok mosculiamo anche questo perfetto fammi vedere se c'è qualcosa da sfilare qua si infatti meno male meno male che ci ho guardato perché mi ricordavo se fosse qualcosa tira via questo poi c'era anche da tirar via questo eh quest'arma qui ha tante partite piccoline si vede che c'è stata un'evoluzione nei meccanismi soprattutto anche nei materiali perché no anche nei materiali tira via ma cos'altro no eh tirare via tutto ti fa schifo ti fa vedo bene vedo io apprezzo che ti fa schifo tirar via le cose toglimi quelle canne aiuto e vaffanculo va cioè questa parte qui se mi fa tirare via la canna gli ropo il culo no non me la fa tirare via c'è qualcosa che mi blocca non me lo ricordo più sto modello anche perché ricordarsi di tutti è impossibile secondo me no no dov'è eppure qua me la dà sta parte di canna maledizione chiediamo un altro aiuto ma vaffanculo va adesso se è quella vitina mi incazzo mi incazzo come la belva no mi fa togliere le vitine che non servono a niente cioè fammelo smontare poi ne ripartiamo per togliere le altre cose cioè secondo me se non mi fa togliere le canne è perché c'è qualcos'altro che lo blocca come dire sto modello non è uscito benissimo eh allora qual è quello che mi manca cos'è che mi blocca cos'è che mi blocca aiuto fa sempre aiuto ecco adesso me la fa togliere perché me la fa togliere adesso non ha senso non ha ci sono delle parti che sono completamente staccate dal modello che non ti fanno andare avanti perché il gioco è come se non capisse che sono parti distaccate ma vabbè ormai siamo arrivati dove siamo arrivati se ne frega anche se ho chiesto gli aiuti di solito preferisco farlo senza aiuti perché mi dà punti ulteriori però ho due parti ancora eh ciao quando cazzo li trovo una ne manca un'altra qual è questa sì olle l'abbiamo smontato adesso rimontarlo è un attimo abbiamo messo 9 minuti e 44 rimontarlo ci mette veramente poco perché comunque rimontarlo ce l'avete ormai imparato quindi lo sapete fare allora mettiamoci questo tipo questo qui lo puoi mettere un primo dopo non ti cambia la vita è questo che il gioco non capisce non capisce che una cosa la puoi montare in due diversi tempi quindi fa un po' fatica anche lui il gioco non è intelligentissimo poi avvitalo qui metteci il tubicino sotto ok metteci questo tapino segna tapino ok poi avvitaci il tapino per chiudere la molla non so cosa serve quella molla sono onesto in tutte le armi trovo sempre delle molle non ho capito se servono per smorzare i rincuri delle armi oppure boh cioè tutte le armi hanno delle molle dentro o le armi nuove ecco quelle vecchie di una volta non ce le avevano eppure non ho capito a che servono non ne ho neanche cercato adesso sono onesto ma ne sono un po' fregato di papà cioè servirà che cazzo me ne frega a me però a qualcosa serviranno quindi mettici questo ok mettici anche questo ok mettiamo lì chi se ne frega però mi manca un pezzo ah questo qui sparigliolo dentro no non è questo qual è che mi manca qual è che mi manca boh chi lo sa ok mettiamoci questo qui colleghiamo quello che si può collegare questo so che si può collegare quindi collegalo poi qua vediamo cosa c'è qua qua mettici questo colleghiamo tutto così ci rimangono meno pezzi poi è più semplice collegare finirlo insomma poi questo secondo me si può collegare infatti questo qui no però possiamo fare qualcos'altro se non è qualcos'altro lo possiamo fare mettiamoci questo poi mettiamoci questo questo non me lo fa inserire questo è già inserito questo questo vediamo un po' quello che c'è ok colleghiamo tutti i pezzi che ci fa collegare tanto non è che ci importa fare il punteggio inserisci questo dentro ok adesso posso spingere questo qui dentro lì fino in fondo ah ok è entrato avete sentito anche il rumore quando entra fa quel rumore lì non ci posso fare niente è un'arma poi fammi vedere qua mettiamo anche questo qui qui questo qui 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 tutto questi questi qui 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 qua 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 ok mettiamo anche questo perché non mi fa inserire le cose ok mi fa inserire un po' come mi pare a lui ah no vero mettiamo anche l'altro il simmetrico vai mettilo no non me lo fa mettere boh vabbè non facciamoci troppi problemi già lo so che questo qui mi fa diventare matto sto fucile eh non me lo ricordo più quando lo faccio e sono fresco cioè me lo ricordo quando lo faccio da poco poi cioè inizio a dimenticarmi le cose mettiamo questa non me lo fa mettere questo me lo fa mettere sì è riportatissimo mettere quello eh senza quello non andava da nessuna parte non andava secondo me come fai a non mettere quello mettiamo anche questo coso qua ok ora vediamo quello che c'è questo me lo fa inserire sì già me lo fa inserire perfetto mettici questo non me lo fa mettere questo nemmeno ormai dovrei aver quasi finito ok metti il calcio avvitalo se no se ne scappa questo non me lo fa mettere che cazzo c'è da mettere più quando non mi ricordo l'ordine non c'è niente da fare peraltro per una vite secondo lui si può bloccare il montaggio di un fucile in una sola vite blocca tutto oh questi quattro pezzi sono rimasti ho la la vitina del mondo è importantissima questa vitina sembra piccola ma è la cosa più importante che c'è su questo fucile metti questo poi metti questo qui metti questo qui ok metti questo altro cos'è questo ah è la parte di sotto per ricaricare è vero questo winchester ha il caricamento un po' particolare poi mettimi questo ok mettimi questo qui vabbè non fa niente prima o dopo basta che lo metti ok mettiamo anche quello dall'altra parte dai prendiamo questo bulloncino che non è vero mettiamo questo abbiamo quasi finito ah l'ultimo ok le ultime due cose bulloncino ok ficcalo dentro meno male che lungo il winchester non finisce più non finisce 15 minuti oh insomma uscita dal gioco mi dà anche del punteggio beh giocatore onesto e niente finisce con questa puntata noi ci vediamo nelle prossime puntate ditemi se continuare oppure fermarmi con questo gioco ciao ciao